Stando ai dati provenienti dal Ministero della Salute e dalle singole regioni, l'emergenza per il coronavirus sembra destinata a durare ancora per qualche tempo, anche perché al momento ad essere colpite non sono più soltanto le regioni del nord. Per tutta la settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le attività didattiche saranno sospese. In Piemonte è prevista per ora la sospensione per due giorni allo scopo di sanificare e igienizzare i locali. Solo nel pomeriggio di martedì si saprà cosa succederà nei giorni successivi. Nel resto dell'Italia la situazione è a macchia di Leopardo, didattica sospesa fino a sabato nel Friuli, nelle province di Savona e di Pesaro e Urbino. Continua il blocco delle gite scolastiche fino alla metà di marzo. Mentre in alcune regioni non mancano le proteste dei docenti, come per esempio in Calabria, dove si parla addirittura di denunce penali nei confronti dei responsabili regionali nel caso in cui, per la mancata chiusura, si dovessero verificare casi di contagio. Intanto in molte scuole del nord si cerca di attrezzarsi per attivare percorsi di didattica a distanza. Ma i problemi da superare sono molti. Non tutte le scuole sono adeguatamente attrezzate, soprattutto c'è da coprire un vuoto normativo di non poco conto. I sindacati di base Cobas e Unicobas in primis osservano che i docenti non sono tenuti a realizzare attività didattiche a distanza, che quindi rimarrebbero affidate alla buona volontà dei singoli. Più drasticamente c'è chi osserva che, se si può fare didattica a distanza, allora il rapporto docente-alunni diventa superfluo. Ma il problema maggiore resta forse quello della formazione dei docenti, perché per realizzare attività veramente formative non basta di sicuro mettere a disposizione, su una piattaforma di qualche tipo, esercizi, video, schede di lavoro. A latere facciamo osservare che la questione dovrebbe far ripensare anche il tema della carta del docente. Se il Ministero mira davvero alla diffusione delle pratiche di didattica a distanza, deve prevedere di dotare i docenti di attrezzature adeguate che possano essere utilizzate anche a casa e in prospettiva quindi il borsellino elettronico della carta potrebbe avere proprio questa funzione. Ma per ora prefigurare soluzioni è difficile, anche perché su questo tema siamo solamente agli albori, almeno nella maggior parte delle scuole. Ovviamente di questo problema continueremo a parlare, continueremo ad occuparci, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Soprattutto scriveteci, raccontateci le vostre esperienze, mandateci i vostri commenti, ne daremo conto come sempre.